Ti manca Bologna e che effetto fa a tornare qua? Manca sicuramente tanto, ho fatto cinque anni e mezzo qua e venirci ogni volta è sempre una sensazione strana. Poi entrare nel palazzetto, vedere i posti dove ho vissuto ogni giorno, ogni ora, vittorie, sconfitte. Quindi mi tornano in mente tanti episodi, tante partite, tante situazioni. Mi aspetto di tutto, sono capaci di tutto, quindi mi hanno già sorpreso un sacco di volte con le coreografie, quindi mi aspetto veramente di tutto. Sono legatissimo a questa squadra qua perché mi ha dato tanto, è una società che mi ha dato la possibilità di giocare cose importanti. Quindi sono molto legato a questa società e a questa gente. La pallacanestro in questo momento per me non è il mio futuro, nel senso che non mi interessa adesso mettermi in una situazione dove non posso controllare, nel senso che fino a quando sei in campo la palla ce l'hai tu e quindi controlli tu e vai. Quando sei fuori sei costretto ad affidarti agli altri e quindi è un ruolo quello che sta fuori di chi sta fuori che non è facile. Quindi non mi voglio mettere assolutamente in una situazione del genere adesso perché sicuramente i 21 anni di carriera sono tanti e quindi adesso voglio un attimo riposarmi, poi dopo non si sa mai, non voglio mettere le mani avanti. L'anno dello scudetto è del 2005 perché era una squadra che non era costruita per vincere, nel senso che non era la squadra della prima era, quella dei grandi campioni. Era una squadra, una bella squadra, giovane, che è arrivata fino lì con la fatica, con il lavoro, con la concentrazione. Quindi quando le cose poi vengono in questa maniera qua è ancora più bello. Mancio ha esperienza da vendere, le qualità le sappiamo, quindi deve traghettare i ragazzi alla vittoria. Sa quello che deve fare, è cresciuto tanto, adesso ha già un'età che può fare questa roba qua. Aiutare i ragazzi più giovani a capire come funziona e cosa si deve fare per vincere. Sta facendo bene, effettivamente il campionato di A2 non è di altissimo livello, però ci sono tante squadre che puntano ad andare in A2, quindi non è facile. È un campionato lungo, tantissime squadre, hanno tutte le carte in regola per potercela fare, perché sono lunghi, grossi, hanno voglia, hanno testa, hanno concentrazione, hanno un allenatore che li tiene sempre sul pezzo. Ho detto, hanno tutte le carte in regola per poter far bene. Tutti i derby sono stati importanti, perché l'atmosfera era alle stelle, c'era grande carica, non ne ho uno in particolare. Tutti i derby, per come vengono vissuti qua, sono stati tutti importanti. No, c'è stata una chiamata di Matteo, perché aveva sentito che forse aveva letto che io avevo dichiarato qualche mese fa che dovevo aspettare qualche mese prima di decidere. Quando ti ha chiamato Matteo? Io fai conto, io ho fatto l'intervista forse novembre, io avevo detto, forse fino a ottobre, inizio di novembre, avevo detto che dovevo aspettare fino a Natale per decidere. Allora lui aveva letto questa notizia qua e mi ha detto, ma pensavo avessi smesso. Ho detto sì, ho smesso, però per non avere pressioni mediatiche ho detto, ho dato una data per stare più tranquillo. E quindi poi è finita l'albero. Oltre questa chiamata non c'è stato niente. Quindi il tiro adesso è definitivo? Sì, sì, ma ero già convinto, ho fatto l'ultima partita il 4 maggio dell'anno scorso ed ero convintissimo, ma ero convintissimo già da 3-4 mesi prima che finisse il campionato. Va bene tutto, ma raschiare il fondo del barile non mi sembrava il caso. Quindi ho fatto quello che ho fatto, sono contento e basta così. Il ricordo? È un bravo ragazzo, è molto umido, è un gran lavoratore. Gli ho detto che l'attacco andava bene, ma si doveva concentrare molto più sulla difesa, perché se vuole giocare a livelli più alti l'aspetto difensivo è forse ancora più importante rispetto all'attacco. Quindi per fare il passo di qualità deve migliorare a livello difensivo. In attacco ha un gran bel tiro e quindi è già un'ottima cosa, perché non è che ce ne sono tanti in giro che hanno quel tiro là. Poi ha la faccia tosta, ha voglia di arrivare, quindi è un buon inizio sicuramente. Sicuramente il fisico aiuta, ma abbiamo visto gente che anche senza fisico è arrivata a giocare a livelli alti. Quindi sicuramente il fisico aiuta, è molto importante, ma se tecnicamente sei bravo, è mentalmente pure. Se sei convinto nelle cose che fai, sicuramente ce la puoi fare.